Ma questo sforzo che è un po' anche pesante, soprattutto col caldo che stiamo vivendo tutti, sta producendo risultati significativi. Questo è l'orgoglio che dobbiamo avere e continuare su una strada che ci sta portando a ridurre fortemente la capacità di diffusione del contagio. Perché lo ricordiamo, 0,51 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50. E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. E questo è l'efficacia dell'azione e ciò che ci sta a stare più tranquilli e confidenti. Quando è a 1 vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anch'io. Quindi dobbiamo continuare su questa strada con determinazione.